Ormai ci sei. Hai caricato, aspettato, caricato, per cui ora è meglio che ti rilassi, prendi un drink e riempi la pipa. Questo esordio audiovisivo ti porterà nel mondo dei mods. Forse le migliori serate in assoluto nel nostro paese sono quelle che si svolgono a Rimini durante il Ponte di Pasqua. Anche quest'anno i ragazzi dello Smart Drivers Scooter Club hanno fatto del loro meglio per sextizzare la giornata della risurrezione. Let's go where the action is. Ciao! 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 Looking for a chance A chance to make you I'll keep on holding on I'll keep on holding on I'll keep on holding on Come on girl I'll keep on holding on I'll keep on holding on Il dettaglio, il divertimento, la velocità E il mod l'ultimo eroe dello stile Se hai ancora voglia di scrutare Nel più bel buco di serratura sonica della rete Non dimenticare la tua vestaglia preferita La seconda puntata il mese prossimo Un buon bicchiere di vino E la lambretta con il pieno Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti